Covid-19 in Basilicata, a Matera prendono il via Maturandi. Da lunedì 7 giugno cambiano le regole per le regioni in zona gialla. Altamura, omicidio del giovane Domenico Martimucci, la Cassazione è confinata. Rifiuti a Miglionico in fase di avvio, la raccolta differenziata porta a porta. Matera e Green, il progetto che promuove la sostenibilità. Ben trovati, iniziamo subito con il parlare di vaccini, perché a Matera hanno preso il via le vaccinazioni ai Maturandi e si proseguirà così giugno prossimo. Abbiamo raccolto le loro voci. Contento sicuramente, perché finalmente stiamo cominciando ad uscire da questa brutta situazione che ci ha tenuti in casa, comunque in una brutta mood che non ci permette di fare le cose come facevamo prima, con la stessa naturalezza e apprezziamo il valore di quelle cose. Adesso tocca a me, dovrei entrare, quindi io devo entrare subito. Via Matera, nel lab vaccinale di via Sallustio, alle vaccinazioni rivolte ai Maturandi nati dal 1 gennaio 2002 al 1 marzo 2003. Si proseguirà fino all'11 giugno prossimo, verranno vaccinati i trecce orari che va dalle 8 alle 13. La vaccinazione è su base volontaria per i maggiorenni, previsto l'utilizzo del vaccino Johnson & Johnson, mentre per i minorenni la somministrazione del vaccino verrà fatta con Pfizer. Dato che di potermi prenotare, è il mio turno, sono riuscita con facilità a ottenere il posto oggi e alla fine non sono preoccupata, sono contenta perché finalmente rimando alla fine. Finalmente è arrivato il mio momento di vaccinarmi, quindi subito ieri ho effettuato la prenotazione, sono qui già dalle 8 per appunto effettuare il vaccino finalmente. Infatti comunque mi sono prenotata per il primo giorno, quindi non ho aspettato, ne ho avuto ansia. Comunque avendo già vissuto il quarto anno, comunque più o meno allo stesso tempo, diciamo bene, soprattutto il rapporto con i professori è stato abbastanza tranquillo, sì. Il frutto di questo risultato deve essere una maggiore solidarietà, una maggiore empatia di noi e capire che il rapporto umano è serio ed importante. C'è stata una grande adesione, quasi 200 ragazzi si sono prenotati per oggi, che arrivano anche dalla vicina Puglia che sono studenti materani e molti anche dalla provincia di Matera, quindi è un lavoro corale che abbraccia tutta la provincia di cui come comune siamo fieri. Stavattina erano prenotate persone, più sono venute altre persone fuori regione, perché la piattaforma fuori regione chiaramente fa un controllo sul codice fiscale, però noi li abbiamo accettati e sono venuti volentieri. Stavattina sono già qui, stavano già molti ragazzi, contenti, felici, sorridenti e hanno accettato volentieri questa vaccinazione. Da domani in regole per le regioni in zona gialla. Da lunedì 7 giugno cambia l'orario del coprifuoco in zona gialla, quindi anche in Puglia e Basilicata. Sarà spostato a mezzanotte, mentre sarà abolito per i territori che entrano in zona bianca. I barri in zona gialla possono restare aperti fino alle 24, orario entro cui le persone devono fare rientro alla propria abitazione. Nelle regioni che dal 7 giugno passano in zona bianca, secondo le ultime notizie a Veneto, si uniranno a Friuli, Molise e Sardegna, il coprifuoco viene tolto da subito e non ci sono più limitazioni agli spostamenti notturni. Per la zona gialla invece rimarrà almeno fino all'inizio dell'estate, l'abolizione prevista dal 21 giugno prossimo. Dal 7 giugno dunque non cambia nulla in zona gialla per le riaperture. Solo dopo il 15 giugno è previsto l'ok per feste di matrimonio, fiere pa, tematici, acquatici ed avventura. Quindi, riassumendo, in zona gialla possono stare aperti i ristoranti e bar all'aperto e al chiuso, ma sempre con il limite di 4 persone non convivevolo sia all'esterno che all'interno. L'orario di chiusura imposto per il coprifuoco, come detto, viene spostato alle 24 da lunedì. Possono rimanere attive le plestre anche al chiuso, i negozi dei centri commerciali e degli outlet possono restare aperti il weekend. È possibile però che dal lunedì successivo l'Italia, sia anche altre regioni, sperano nella promozione in fascia bianca. Fra queste è quasi certamente la Puglia, mentre per la Basilicata sono in corso valutazioni. Aggiornamenti dell'emergenza Covid-19 nella regione, perché nelle ultime ore su 577 tamponi processati, 32 sono risultati. In particolar modo il numero più alto lo fa registrare il comune di Paterno, con 8 positività, quindi in provincia di Potenza. Nella stessa giornata sono 67 persone, 49 invece sono le persone attualmente ricoverate nelle strutture ospedaliere di Potenza e Matera, ma zero di queste in terapia. Quindi un dato positivo, purtroppo però si registra anche nell'ultimo bollettino un decesso. Adesso cambiamo a parlare della Casa delle Tecnologie di Matera, perché si è tenuto proprio nella giornata di ieri il primo sopralluogo operativo. Vediamo com'è andata. Primi sopralluoghi tecnologico di San Rocco, nei luoghi che ospiteranno i laboratori di innovazione della Casa delle Tecnologie. Dopo l'accordo dello scorso 24 maggio, siglato a Napoli, si è tenuta nella cittadone tecnico-operativa fra il comune e i partner dell'Academy per valutare le strategie più efficaci da seguire. Presente all'incontro anche l'onorevole Mirella Liuzzi. Nel quale l'assessore all'innovazione, a cito, è il coordinatore scientifico della Casa delle Tecnologie, Pepe, hanno illustrato lo stato di avanzamento dei progetti relativi a blockchain, internet 5G, 3D, video capture, intelligenza artificiale. Si è poi discusso con i referenti dell'Academy su come integrare le loro lezioni, basate su un metodo innovativo, con i docenti che incoraggiano gli studenti a sfruttare le tecnologie che usano quotidianamente per risolvere problemi reali, con quanto è già posto in essere dai partner scientifici e tecnologie emergenti. L'incontro di oggi, ha dichiarato il vicesindaco a cito, sottolinea ancora una volta la volontà dell'amministrazione comunale di investire sui nostri giovani e percorsi di alta formazione estringendo alleanze con le eccellenze interregionali del digitale. Adesso ci spostiamo ad Altamura. Torniamo a parlare del pane Domenico Martimucci perché la Cassazione ha confermato le condanne. Omicidio volontario, circa 75 mesi dopo la tragica 2015, la Corte di Cassazione ha confermato le pesanti condanne per la morte di Domenico Martimucci, ex calciatore dell'associazione calcisti Castellaneta, vittima del terribile attentato e venuto a mancare il primo agosto dello scorso anno dopo mesi di coma. Le pene ora sono di reclusione per Mario D'Ambrosio, il mandante dell'attentato esplosivo, e 18 anni per Luciano Forte, complice del delitto. Già chiusa la vicenda giudiziale, esecutore dell'attentato, Savino Berardi, condannato a 20 anni. Riteniamo doveroso fare un sincero ringraziamento. Si legge in un pagina Noi siamo domi onlus a tutti coloro che ci hanno accompagnato in questo lungo, duro e doloroso percorso. Un grazie va alla comunità, si legge ancora Mancare la vicinanza e la solidarietà in ogni momento ad Altamura, in via Parisi, dal 5 marzo scorso sulla facciata di una palazzina dell'Arcaputo, murale dedicato al giovane calciatore, con le pennellate della street art di Donato Lorusso. Nello stesso post viene fatto un rimprovero cosmi tutte che con l'abbassarsi delle luci dei riflettori spesso dimenticano chi ha sofferto e soffre ogni giorno. Adesso, proprio in occasione della giornata dell'ambiente che si è celebrata ieri, l'assessore Rosa fa una sintesi sulla programmazione passata della regione Basilicata e dell'assessorato che guida. In occasione della giornata mondiale dell'ambiente che si è celebrata il 5 giugno si apre il decennio ONU per il rintrodotto con l'obiettivo non solo di tutelare ma di far rivivere foreste, terreni agricoli, mari e montagne. È un tema importante che indica la su un tipo di ecologismo evoluto che si occupa sia di tutelare l'esistente che di ricostruire quanto si sta perdendo ed è un tema che come Dipartimento Ambiente su svariati fronti lo sottolinea l'assessore regionale e all'ambiente della regione Basilicata Gianni Rosa. Maggiorico del territorio valorizzazione e sviluppo sostenibile sono le tre direttrici lungo le quali si sta sviluppando l'attività dell'assessorato all'ambiente. Dall'inizio del governo Bardi e dal mio mandato è stato necessario trovare un equilibrio precisa rosa in un percorso graduale che tenesse conto di competenze ambientali ma anche di quelle sociali della nostra terra partendo dalla consapevolezza che per parlare seriamente di sviluppo sostenibile bisogna sono le condizioni di partenza dei singoli territori. La nostra regione contiene in tema di ecosistemi grandi contraddizioni dell'era moderna e acqua, boschi e mare dall'altro e non possiamo prescindere da questa realtà. Per questo le prime azioni sono state quelle di sviluppare l'olio aggiungerosa abbiamo riformato l'agenzia regionale per la protezione ambientale di Basilicata al fine di renderla più performante abbiamo incidere maggiormente sulla tutela ambientale ma evidentemente come chiede anche l'ONU non basta la sfida che ci siamo imposti non è solo quella di lottare contro l'inquinamento ma anche di tutelare e ripristinare l'immenso patrimonio naturale della Basilicata. Invece in fase di avvio la raccolta differenziata porta a porta non mancheranno di certo le difficoltà ma a fronte di abitudini aiuteremo l'ambiente costruiremo una comunità più sostenibile per i nostri figli e avremo un risparmio sulla bolletta Tari già da questa armia raddoppierà il prossimo se saremo una comunità modello. A dirlo è il capo dell'amministrazione comunale di Miglioni con Francesco Comanda rano capofila dell'Unione Comuni del Subambito 2 Pomarico Grotto Legrassano che si prepara ad affrontare l'importante sfida rappresenta di conferimento dei rifiuti in queste settimane dopo la distribuzione di bidoncini sacchetti biodegradabili e un'articolata campagna intensificate le affissioni la distribuzione di materiale informativo app per dispositivi mobili e social compresi dove l'amministrazione Miglioni con i vari dubbi che inevitabilmente accompagnano questa prima fase di avvio le attività di comunicazione e accompagnamento riguardano nonché i titolari delle attività commerciali da lunedì quindi anche Miglionico è pronta a gestire la prima fase del servizio inevitabilmente ma il sindaco comanda è sicuro del fatto suo insieme a tutta la squadra di amministratori comunali commenta abbiamo cercato di fare della diffusione certosina di tutte le informazioni utili per una corretta raccolta differenziata abbiamo scelto uno slogan coinvolgendo i cittadini per la campagna informativa conclude ora dobbiamo fare uno sforzo collettivo affinché la cosa funzioni e ne va del benessere di tutti Matera e Green è invece il titolo del progetto che promuove la sostenibilità ambientale diffusa in città tre giorni è stata di affermare che Matera e Green con una serie di iniziative promosse in maniera sinergica da alcune associazioni in città per ripulire alcuni luoghi altresi la vivibilità degli spazi verdi un insieme di iniziative dunque terminate domenica inserite nella settimana verde europea 2021 inquinamento zero sabato l'appuntamento con il trekking urbano da un orto all'altro con la partenza dalla Pineda dei vigili del fuoco questa iniziativa rientra nella Green Week a cui l'amministrazione ha aderito come par l'obiettivo che è già iniziato con altre manifestazioni come quella ieri per esempio in piazza in sostenibilità e gli assessori si sono confrontati con i cittadini ascoltandoli le iniziative che questa amministrazione porta avanti per la sostenibilità quest'area verrà manutenuta cioè del rasfalto parte degli operai del consorzio di bonifica che si occupano di forestazione e li mette a disposizione la regione ha bisogno pulita dai rifiuti ci siamo resi conto che sono tante le persone e i ragazzi soprattutto la nuova generazione che non hanno vissuto come forse è stato con la terra quindi c'è proprio questa volontà da parte delle nuove generazioni di entrare a contatto con la terra di mettere le mani nell'attività e capire come funziona la produzione del cibo che mangiamo o tutto quello che c'è dietro quindi mi lenti e scoprire tutto questo mondo oggi in occasione del corpus domini nella chiesa di Cristo a mirare l'infiorata realizzata con 20.000 petali di fiori 14 pannelli con i temi sacri saranno esposti lungo i pannelli sono stati realizzati da scout catechisti e fedeli quest'anno l'atto di devozione realizzato a materia periziativa del parroco della chiesa Cristo Re Padre Carlo Basile membro della comunità francescana dei frati minori ci fermiamo qui grazie per averci seguito buona domenica Ascolta la storia di Anna Rosa Fontana vittima di femminicidio accoltellata dall'ex compagno dopo anni di molesti e violenze sono gli alunni dell'istituto comprensivo Giovanni Pascoli la vittima quando Anna Rosa ha chiesto giorno dopo giorno aiuto prima dell'omicidio che fece le sue le ultime tre telefonate aiuto e dicendo ho paura quella frase ho paura per me e per me non è stata scontata questo progetto nasce per merito della professoressa Graziata ormai da nove anni si sta occupando della tematica già in passato c'era stata una pubblicazione alla nostra scuola di storie di femminicidi una raccolta di storie che ha visto protagonista una classe di terza media qualche anno fa su questa scia la professoressa Tanti ha cambiato il ciclo ha continuato a insistere su questi temi e si è incrociata con l'associazione Anna Rosa una di noi condotta da Antonella Fontana e si è pensato di far giungere a conclusione un ulteriore percorso di approfondimento sulle tematiche di genere attraverso la raccolta di altri testi altre storie che vengono nel mezzo di settembre dall'editore Graus di Napoli stimolare il cambiamento culturale e la consapevolezza dei diritti sono gli obiettivi della professoressa Grazia Tantalo con la collaborazione costante di Antonella Fontana Anna Rosa questo aiuto non è stata ascoltata come hanno detto sia l'onorevole Ascari la consigliera delle pari opportunità la Coviello quindi questo progetto anche con il libro con i ragazzi sta partendo per dire basta quindi le donne devono essere ascoltate non dimenticate o quant'altro come il caso diciamo di mia sorella abbandonate i giovani sono spugne lei ha un rapporto dei ragazzi che scambio c'è tra di voi lei cosa racconta e loro cosa recepiscono sta avvenendo un cambio allora sì io ogni settimana o una volta al mese ho un rapporto diretto con i ragazzi dove parliamo dell'amore io sto dicendo a questi ragazzi di rispettarvi e di amarvi vi rispettate l'amore e il trionfa o viceversa l'amore amore e il rispetto scorsi dieci anni da questo caso tantissimi sono i casi in Italia non si contano più però ecco maggiore dello Stato lei ha detto ci stiamo lavorando veramente per dare una svolta anche da un punto di vista normativo il codice rosso è stato un importante punto di partenza ma non di arrivo perché aspetti da modificare soprattutto l'aspetto culturale domina una cultura patriarcale retrogada sessista ed è per questo che la milione è l'educazione a partire dai primi banchi di scuola a partire dalle nuove generazioni che saranno poi fidanzati mariti padri mamme future ed è importante proprio educare a rispetto della legalità con l'educazione civica è stato fatto un importante passo in avanti secondo me bisogna ancora potenziare rendere ancora più sistemica l'educazione come per esempio l'educazione e sentimento e sessuale educare nella gestione anche dei no della libertà di scelta su questo anche il Parlamento per esempio ha depositato proprio le norme di integrazione al codice e mezzo di entrata in vigore perché comunque bisogna anche adattare la norma a quelli che sono dei fenomeni non c'è solo la violenza fisica la violenza psicologica la violenza economica più a violenza in rete late speech l'odio che colpisce soprattutto le donne così come a French porn quindi il codice rosso è stato un passo importante ma adesso l'abbiamo integrato con le considerazioni che ci sono arrivate anche lì ho depositato la legge sulla reazione sentimentale diciamo che serve un grande lavoro di squadra non esiste la legge perfetta quella che dà e arriva da tutti i soggetti che conoscono il fenomeno e che è importante per migliorare sempre di più la normativa rispetto invece alla tutelio soprattutto dei minori poi dei figli delle vittime come si sta lavorando? Beh innanzitutto è cambiata nel 2020 i risarcimento previsti sono stati quintumplicati perché se pensiamo che in un caso di un omicidio il risarcimento erano 7200 euro adesso sono 60.000 euro fino al diciottesimo anno i supporti anche per le spese proprio poi ovvio che ci sono delle criticità perché oggi viene richiesta comunque l'intenza passata in giudicato per dare queste risorse stiamo cercando con un gruppo di intervenire per togliere questo limite e cercare di aiutare da subito questi crimini però teniamo presente che quando arriviamo lì è troppo tardi noi dobbiamo intervenire prima andare a cambiare la cultura la mentalità sessista che ancora oggi domina le pari opportunità della regione il comune stesso che segnala almeno 40 richieste di aiuto al mese lavorare ai diritti delle donne la commissione a livello regionale sta lavorando molto stanzitutto per il riconoscimento dei diritti delle donne e delle pari opportunità perché di un femminicidio prima ancora delle violenze esistono i diritti il riconoscimento dell'essere del valore della donna del riconoscimento dei pari diritti per cui finché non c'è quello finché la cultura finché le istituzioni non riconoscono non solo con le leggi ma con le azioni questo non potrà in nessun modo eliminarsi il fenomeno della violenza sulle donne e sui femminicidi perché come sappiamo bene è una questione culturale e quindi la commissione regionale per il repario impegna tutti i giorni affinché queste donne non si sentano sole e non direttamente di ascolto ma lavora affinché possa lare tutti gli organismi regionali anche all'interno dell'osservatorio regionale contro la violenza di genere sui minori la commissione partecipa mettere in campo delle azioni soprattutto per prevenire oltre che proprio poter lei ha detto soprattutto una questione culturale di consapevolezza la Basilicata come è messa da questo punto guardi i passi sono stati tanti la nostra regione ha fatto tantissimi passi in favore in favore delle donne della prevenzione e della protezione diciamo esistono associazioni che storicamente si prendono cura della protezione delle donne aderito al 1522 il numero nazionale contro la violenza e quindi dove le donne credo che in questo momento la nostra regione abbia bisogno di abbia bisogno non solo di guardare alla violenza rispetto alla protezione del fenomeno ma in qualche modo bisogna dare a queste donne bisogna aiutarle nell'emanciparsi dall'uscire da quel percorso che in qualche modo si prenda cura o meglio una rete a cui loro si possono aggrappare Perù non riesce a uscire dalla violenza se non c'è quindi c'è bisogno di azioni strutturali la nostra regione è pronta è pronta culturalmente lo percepisco forte ma le istituzioni devono dare un segnale molto forte il comune è molto sensibile alla tematica di genere alla problematica e vi do veloce al di là dei due casi di femminicidio di cui purtroppo abbiamo parlato anche oggi con la farina sono decedute brutalmente sono morte sono state ammazzate in maniera brutale dai loro compagni o mariti ma anche giovani madri materane che hanno lasciato degli orfani sono tante le situazioni giornalmente il comune si rende conto le donne materane o comunque le donne non materane che vivono a Matera in stati di pericolo che vivono situazioni di violenza o di stalking parliamo di circa perché c'è uno in comune uno sportello a cui ci si può rivolgere lo dico anche stavolta un'email dedicata chiedere aiuto attraverso di noi sono circa 40 al mese che pervengono di aiuto quindi più di una al giorno più di una donna al giorno a volte il telefono almeno due donne al giorno che chiedono aiuto e spesso lo ricevono sotto forma di supporto psicologico l'attivo economico in un secondo momento ma anche su quello stiamo lavorando per cercare di dare una mano sono pienamente purtroppo devono recarsi al pronto soccorso devono chiedere l'aiuto delle forze dell'ordine quindi la situazione è piuttosto grave siamo qui oggi per sicuramente culturale e anche legato a un retaggio di matrice di tipo patriarcale dal punto di vista culturale dal punto di vista culturale come è messa lei che percezione ha rispetto al tema del rispetto delle donne sicuramente negli ultimi anni grazie anche alla rete donna che è il protocollo di intesa che è stato comune portava avanti da un paio d'anni è aumentata sicuramente la sensibilità non sono sicuri la farina e la fontana avrebbero vissuto il percorso che hanno vissuto non sono state ascoltate e poi sono alla fine sono purtroppo morte per anni non sono sicura che questo sarebbe successo o in questo modo così abbandonate le lanciavano SOS aiuto più volte non sono state ascoltate questo è cambiato un po' negli ultimi la sensibilità è aumentata dobbiamo lavorare ancora molto partendo soprattutto dai giorni nei ragazzi negli studenti e anche nell'età più sta sicuramente alle istituzioni alle scuole a ognuno di noi agli adulti aiutarli ad essere e aiutarli a sradicare sul nascere quella cultura se si linguaggio di genere a cui purtroppo ci siamo assuefatti anche dalla tv social sui giornali ecco dobbiamo essere i primi noi abbiamo il dovere di far capire ai ragazzini che questo non va bene e che va fatto quello scatto perché la società è civile di far capire